Ciao, io sono Francesca, mi voglio presentare dicendo che sono molto brava nei lavori di contatto con la clientela, sono molto simpatica, molto divertente, è disponibile, non ce la faccio, è il tuo momento di notorietà, lui interrompe perché rompe il capo, volevo dire disponibile nel... ma la specialità della casa la conosci? La specialità della casa la conosci? Allora, la specialità della casa la conosci? Sì, brava, complimenti, complimenti. Poi ti dico che vuoi la specialità della casa, però non puoi dire niente. No, non puoi dire niente, non dire niente. Non ho la specialità della casa, sono io. Allora, proponiti, che cosa sai fare? Io so cucinare, quindi sono molto brava a cucinare. Quindi? Che cosa sai cucinare? Ah, so ammassare, so fare la pizza, so fare la pasta, so fare la pasta. Se trombare la massa? Sì, so fare la pasta, gli gnocchi, so... Ah, sì, sì, è vero. Sì, sì. Cazzo, tu sai cosa fare? Poi? So fare tanti dolci, so fare le crostate, i tiramisù, quindi posso essere utile per tutte le donne che non sanno cucinare, posso insegnare qualsiasi trucco o consigli. Sono i consigli di nonna, sono consigli antichi, quindi nella tradizione rimaniamo. E posso fare anche tanti pasti abruzzesi, per esempio, più che altro terramani, perché sono di deramo, quindi le tagliatelle con le polpettine di macinato, il simballo, la lasagna, poi il formaggio fritto. Poco me lo ricordo, ecco no, non mi lo ricordo. E poi so... Eh, non so spavano. Poi so, se serve pure la... Che può fare? Eh, cucinare, quello è più. Dico, oltre a saper cucinare saprei fare qualche altra cosa. Per aiutare il computer. Ah, vabbè, il computer sì, ma il computer, ecco, quello posso essere... Non lo so aggiustare, ma so fare tante cose. C'hai la patente europea? Non lo so aggiustare. Sì, sì. C'hai la patente di guida? Sì. C'hai la patente di camion? Eh, con la procedura si guida l'ambulanza. Brava. E quando si aprono le porte cosa fai? Ah, vediamo, prova a fare l'ambulanza, fai l'ambulanza. Fai l'ambulanza. Fai la sirena. Come fa la sirena? Nino. Alza l'audio, alza. Nino. Fai, Nino. Nino, Nino, Nino. Questa. Come fa l'ambulanza? Nino. Nino. Come fa Nino? Non so. Giù, 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 giù. Ecco, Nino. Eh, infatti. Comunque si sente poco. Eh, falla tu, falla tu una volanza. Fai. No, 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 no. Ma che cosi? No, 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 no. Non lo so, c'è tanti suoni. Ma lo so. E... E... Ah, le bitonali fanno... Uuuu. Uuuu. Chi è che fa così? Oltre al Nino, c'è pure... Uuuu. C'è anche quello, eh? Le bitonali, sì. Le bitonali, sì. Però ce ne hanno più le medicalizzate. Eh, quello sì, sicuro. Ho fatto il cazzo. Eh... E poi adesso... Che altro sei fare? Ah, so lavorare i giardini, perché mi ha insegnato lì, quindi so... So comunque fare... Sì, ho imparato un po' a lavorare i giardini, a piantare le piante, a occuparmi delle piante. Quindi sì, a piantarle, insomma. E poi... E poi... Beh, comunque ho lavorato con una pasta all'uovo, quindi fare cose con la pasta all'uovo. Non mi ricordo. Un negozio. Va bene, quindi che cosa... Vabbè, anche la commessa, perché ho lavorato in negozio, quindi anche la commessa di tende, di vestiti, qualsiasi cosa di commessa. Ah, ho capito. Quindi... Proponi, fai uno spot a tuo favore. Perché dovrebbero sceglierti? Perché? Perché ho tanto... Ho tanto ingegno e tanto talento. E non basta. Che altro hai? La voglia di far conoscere e di far imparare. Non basta. Vabbè, oh, è che cazzo. È difficile. Vabbè, questo fai, dov'è che basta, punto. Vabbè. Vuoi salutare qualcuno? Saluta a casa. Ciao, amore. Amore chi è? Lo stallone. Sì. Stavolta. 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 Sono un po' Facebook qui. I miei saluti. No, allora, stallone. Tu che sei un uomo di poche parole. No, no, questo no. E più non è come me. Lui fa finta. Sto da sola, faccio sto da sola. Allora, scusami, quanti tatuaggi hai? Non li vuoi raccontare? No, posso dire solo che ne ho dieci. Dieci. Dove ce li hai? Gamba, braccia. Non ciò ne vai dai. Non ciò che... No, nonciò che... Ma un iso cazur. Non Сегодня con tratto. Grazie.